Gli esseri umani praticano la meditazione da millenni. Come mai da millenni cerchiamo una modalità per modificare il nostro stato di coscienza o di gestire il nostro stato di coscienza? Ebbene, in questo video cerchiamo ancora una volta di decostruire la pratica meditativa per vedere quali sono gli elementi della pratica di meditazione che sono realmente attivi. Tra tutte le cose che si svolgono durante la pratica meditativa, solo alcune cose danno realisticamente dei risultati o perlomeno solo alcune cose sono state comprovate dalla ricerca. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, benvenuti o bentornati sul mio canale. E in particolare oggi state guardando la puntata dedicata all'approfondimento dell'episodio del podcast 485 dedicato ancora una volta alla decostruzione della meditazione. Che tu sia un praticante di meditazione tradizionale, che tu abbia molte pratiche di meditazione o che tu non sappia nulla di meditazione, ti invito a seguire fino in fondo questo mio ragionamento perché vederne solo un pezzettino non ti servirà così tanto. Così come vedere solo un pezzettino di una pratica meditativa non ti servirà così tanto. Le cose sono abbastanza simili, diciamo che sono isomorfe, direbbe qualcuno di molto bravo. Cioè le loro forme sono simili. Da circa una decina di anni sul nostro canale e sui nostri canali cerchiamo di divulgare quella che viene definita o quella che abbiamo definito meditazione scientifica. Devi sapere che io pratico la meditazione da diversi anni, ho praticato diverse forme di meditazione e nella mia pratica clinica come psicologo psicoterapeuta utilizzo delle tecniche di ipnosi o meglio utilizzo proprio una psicoterapia ipnotica. E l'unione di ipnosi, pratiche meditative che arrivano dall'Oriente o meno perché in realtà ci sono pratiche meditative anche occidentali, ecco che ho iniziato ad esplorare sempre meglio questo ambiente cercando di trarne, diciamo così, i comuni denominatori che possono essere utili a chiunque. Anche a te che stai guardando in questo momento e magari non hai intenzione assoluta di praticare la meditazione. Partiamo dal presupposto. Quante persone hanno sentito parlare del fatto che esiste una ricerca scientifica dietro alla meditazione e il fatto che negli ultimi anni questa pratica ha avuto un'esplosione di ricerche, di conferme scientifiche. Ebbene, dovete sapere una cosa molto particolare che non tutte le pratiche di meditazione hanno raggiunto questo standard ma in particolare una sola pratica ha raggiunto questo tipo di standard. Ciò non significa che le altre pratiche non siano state studiate ma sono state studiate o in condizioni di controllo scarse oppure da, diciamo così, studi che sono stati commissionati dai capi stessi delle pratiche meditative. Ce ne sono alcuni che sono specializzati nel creare studi che si auto... Ma ci siamo capiti. Ora, le pratiche più studiate nell'ambito scientifico della meditazione sono le pratiche di consapevolezza quelle che derivano dal buddismo in particolare dal buddismo Theravada all'interno di quella pratica che si chiama Vipassana e che oggi è molto famosa come meditazione mindfulness che viene solitamente un po' ostracizzata dagli antichi, dai tradizionalisti e viene vista di cattivo occhio invece dalle persone altamente scientifiche che dicono ma cos'è questa inception di una roba orientale all'interno della nostra pratica occidentale. La meditazione in realtà, se vista al di fuori dello sguardo metafisico, religioso e culturale dalla quale nasce o dalla quale è stata presa è evidente essere un esercizio della consapevolezza. Chiunque di voi avrà sentito dire che una semplice pratica di meditazione è chiudere gli occhi, restare fermi in una posizione che alcuni chiamano Asana o Asana dalla tradizione induista dello yoga cercando di restare focalizzati su qualcosa in particolare restando focalizzati sul respiro e ogni volta che ci rendiamo conto che il respiro si è dimenticato cioè ci siamo dimenticati del respiro che in pali, sati significa ricordo, ricordo di sé eccetera eccetera ogni volta che ci dimentichiamo ce ne accorgiamo e torniamo gentilmente sul respiro. Ecco in pochi secondi vi ho spiegato esattamente tutta la pratica meditativa che può essere fatta sul respiro, sul corpo, su un oggetto esterno ma solitamente si utilizza il corpo perché? Perché il corpo è sempre nel presente anche un oggetto esterno fuori da voi è sempre nel presente ma noi dobbiamo usare il corpo perché è più semplice da osservare così come è più semplice da osservare il nostro respiro che è sempre a portata di mano e indovina indovinello il respiro avviene sempre qui e ora e quindi è difficile pensare ad un respiro fatto prima ad un respiro fatto dopo Tra le prime osservazioni che abbiamo fatto la più banale di tutte, la più prosaica quella proprio tagliata con l'accetta è il fatto che qualche anno fa alcuni studiosi hanno ricavato da alcuni studi l'idea che semplicemente chiudere gli occhi per due minuti potesse avere un effetto concreto sul nostro cervello e così hanno fatto hanno chiesto a delle persone di chiudere gli occhi per due minuti sottoponendole a dei test cognitivi prima e dopo ed indovina cosa è successo? Qualcosa di incredibile sono bastati due minuti per avere un recupero quasi del 50% di memoria e di creatività fatto in modo empirico quindi con dei test altre persone che invece erano state invitate a fare delle piccole pause senza tenere gli occhi chiusi non hanno ricevuto lo stesso vantaggio dunque è facile, plausibile intuire che il fatto di tenere gli occhi chiusi mentre meditiamo potrebbe essere qualcosa di molto rilevante per cui se ci stiamo chiedendo è meglio tenere gli occhi aperti, gli occhi socchiusi beh, secondo la ricerca tenere gli occhi chiusi potrebbe avere un effetto profondo un effetto che funziona al di là di qualsiasi convinzione metafisica una cosa straordinaria delle vere pratiche di meditazione come la vipassana è che funzionano anche se non ci credi cioè anche se non ci credi ti metti lì funzionano questa è un po' la differenza con tante altre pratiche è come la palestra tu non hai bisogno di credere che quell'esercizio lì ti farà bene se tu farai quell'esercizio per un sufficiente tempo ti farà bene comunque indipendentemente poi ovviamente dovrai fare bene l'esercizio ma quell'esercizio ti farà bene anche se non ci credi ebbene tenere gli occhi chiusi ti fa bene anche se non ci credi altri aspetti che abbiamo notato è il fatto che restare fermi con gli occhi chiusi genera una specie di scompenso particolare perché all'interno del regno animale stare fermi con gli occhi chiusi accade solo in due situazioni o quando dormiamo o quando ci sentiamo profondamente sicuri tra le braccia della mamma o del papà ok, questo in natura è stato visto negli animali quindi restare fermi con gli occhi chiusi in situazioni diverse cioè quando non stiamo dormendo e quando non siamo tra virgolette molto sicuri fa sì che le parti diciamo così della sicurezza e della minaccia diventino più equilibrate dentro di noi ora non sto a menarvela con l'idea del nervo vago con la porzione ventrale con la porzione dorsale venite ad ascoltare la puntata di riferimento e potrete approfondire gli aspetti neuroscientifici ebbene abbiamo tanti altri aspetti come ad esempio il fatto di aver scoperto che restare fermi ad osservare noi stessi cioè questo allenamento dell'attenzione allena 5 circuiti che sono stati scoperti da un tizio nel 2013 si chiama Malinowski scrivete Malinowski 2013 attention scoprirete questi 5 circuiti della nostra mente che guarda caso sono gli stessi circuiti che perdono colpi quando non abbiamo avuto un'infanzia felice o meglio quando durante l'infanzia non abbiamo ricevuto quel giusto accudimento non abbiamo sviluppato quello che si chiama tra virgolette attaccamento sicuro ebbene secondo Dan Siegel un neuroscienziato psichiatra molto famoso in questo ambito pare proprio che la pratica meditativa vada a sviluppare o almeno a recuperare uno sviluppo proprio di quelle aree che non sono state sviluppate a causa dell'accudimento del mancato accudimento ovviamente possiamo solo fare delle ipotesi ma a quanto pare la pratica meditativa riesce a ridare forza proprio a quell'are il che è davvero incredibile non solo negli ultimi anni abbiamo scoperto una cosa molto interessante riguardo proprio questo oggetto il nostro cervello abbiamo capito che noi raramente siamo davvero nella realtà o perlomeno noi quando guardiamo la realtà per risparmiare energia cosa facciamo? prevediamo la realtà sulla base o sulle basi delle conoscenze che già possediamo e dunque tu in realtà adesso pensi di capire il mio discorso perché ascolti parola per parola che succede? non è andato via l'audio tranquilli in realtà quello che succede è che tu prevedi le parole che io ti dico un po' come chat GPT è come se dentro di te avessi un archivio che prevede con una certo margine di sicurezza che se una frase inizia in un certo modo finirà più o meno in un altro modo e dunque noi siamo costantemente nella previsione mentale questa previsione mentale ci consente di risparmiare energia di pianificare le cose complesse di suonare uno strumento quando siamo in mezzo alle altre persone di conversare con la gente di comprendere i discorsi ma allo stesso tempo può ostacolarci perché essere troppo predittivi crea delle aspettative che veicolano e forzano la nostra attenzione e quindi per riuscire a essere maggiormente consapevoli dobbiamo tra virgolette ridurre il rumore di queste predizioni ed indovina cosa riduce il rumore di queste predizioni esattamente la pratica meditativa e quindi ciò che stiamo scoprendo è che la meditazione non è un singolo esercizio non è come muovere il bicipite e fare un esercizio di isolamento sul bicipite ma è più come un esercizio multiarticolare che ti consente di sviluppare varie parti del tuo corpo che poi avranno un transfer su altre aree della tua vita in pratica è un esercizio semplicissimo esattamente come te l'ho descritto all'inizio che però ha degli effetti positivi su tutto su tutto il nostro essere a 360 gradi psicologico fisico e anche relazionale dunque se per caso non hai mai praticato la meditazione ti invito ad iniziarla sappi che puoi farlo gratuitamente scaricando la nostra applicazione clarity o semplicemente andando a vedere le vecchie puntate di Psynel oppure frequentando un corso nella tua zona un mindfulness based stress reduction sul quale noi non guadagniamo assolutamente nulla se vuoi invece un corso fatto per te online incredibile si chiama MMA il nostro master in meditazione avanzata ma adesso mi fermo qua con la pubblicità e ti invito ad ascoltare la puntata 485 all'interno della quale approfondiamo proprio questi concetti e andiamo maggiormente a fondo ed espandiamo anche con le puntate precedenti bene fammi sapere che cosa ne pensi soprattutto se sei un praticante di meditazione clicca su mi piace se per caso non l'hai ancora fatto iscriviti subito a questo canale per non perdere i prossimi aggiornamenti bene alla prossima ciao lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati beh ora lo sai e se vuoi praticarle in modo semplice e costante ho creato un'app gratuita per te puoi trovarla sull'apple store o sul google play store oppure cliccando sul link in descrizione grazie